Ciao, sono Gianni95 e oggi siamo su CTR per continuare a prendere delle reliquie d'oro. Eravamo rimasti che abbiamo preso le reliquie d'oro, se posso vedere i progressi nella Santa Beach. Le dobbiamo prendere anche nelle altre zone, prenderemo le sue rovine perdute e proverò a fare le chiavi d'oro. Ovviamente le clip saranno spezzate, vedrò se farvi i tagli, non so neanche se negli scorsi episodi ho fatto i tagli e ho fatto vedere solo le parti in cui ho passato la chiave d'oro. Ma questo è tutto da vedere, scrivetemi voi nei commenti, come preferite, se volete avere dei tentativi o solamente quelli buoni. Detto questo, andiamo alla prima zona, che è questa qua, che io ho fatto tutte le chiavi di zaffiro. Faremo le donate, e allora le chiavi. La prima è questa, e vabbè cercheremo di prenderla, non so quanto ci farà. Spero non troppo perché altrimenti non esco a registrare molte mappe. Più faccio prima, più ricordo registrare le mappe. Per le platino, che vi ho detto nei scorsi episodi, non so se ve l'avrò tagliato o meno. Praticamente le platino sono molto complesse, quindi non immagino le platino quando sarà difficile prendere. Quindi magari scrivetemi nei commenti se volete le platino vederle, se le preferite in live per fare la prova e vedere se riesco a prenderle. Ok, 16 secondi, vediamo se riusciamo a prendere la chiave d'oro. Oppure fare dei video in cui le vado a prendere ma non c'è l'audio. Se non c'è il mio audio, metterò magari la musica sottofondo. Adesso si vedrà cosa sarà meglio. Allora, vediamo di prendere le casse, non quelle che valgono di più. Allora, vediamo se riesco a prendere queste. Ho preso un 3, va bene. Ok. Vediamo, non lo so quanto sia difficile andare a prendere queste chiave. Ah, per prendere su due. Vai, levati, levati di qua. Muoviti. E' però troppo tempo. Allora, vediamo. Se sentite un po' di confusione, vabbè, non passateci sopra. No, i tempi, i tempi. No, ce la faccio, ce la faccio. Ce l'ho fatta, chiave d'oro. La prima l'abbiamo presa al primo colpo. Quelle di platino sono veramente complesse. Dobbiamo essere perfetti e precisi. Quindi iscrivetevi voi. Se volete vedere integralmente tramite video senza far vedere solo le parti buone. in cui cerco di passare del platino perché altrimenti ci metto troppo e il video duno veramente troppo. Oppure farò fare solo una live in cui proviamo a prendere e poi se non riusciamo fa niente. Tanto 1.995 come il canale. 95 è un segno, eh? Vabbè, intanto abbiamo fatto questa dorata. L'abbiamo fatta subito, quindi... Va bene, andiamo avanti. Prima dorata. Va bene, ho preso la dorata. Adesso abbiamo la dorata in parco coco. Ci mancano le ase 3 e vediamo se riesco a fare presto come ho fatto in questa. Questa è abbastanza semplice perché è un circuito facile. Però le altre vanno più curve, sarà più difficile prendere le casse e sarà un casino. E in quelle platino bisogna prendere tutte le casse senza mai mancare una che sarà più precisa. Poi scrivetemi se volete che cambio skin. Se volete che cambio personaggio lo cambio, eh? Non c'è problema. Basta che me lo diciate e... Vediamo. Piramide Papu. Va bene, andiamo. Corso le liti. Ok, va bene. Dai, questa qua mi sembra... Mi sta appunto più complicata di quell'altra, eh? Ecco, l'ho saltata. Incredibile. Ho fatto una derappata per schivare la pianta che non avete idea. Eh, ho mancato la cassa. No, mi ha preso la pianta. Dai via. Eh, mi ha preso la pianta. Ho preso tempo. Devo essere... Devo cercare di non sbagliare ma le casse me le mettono proprio nei punti brutti. 1,9. È bruttissimo il tempo, eh. Metteremo tanto. Ah, questa l'ho presa stavolta. Quelle lì sopra non le prendo perché... Mi sembra solo una paia di tempo ed è complicata da prendere, quindi eviterei. Ok, ho preso quella esterna. Dai, dai. Nooo, è caduto. È caduto, miseria. Ero quasi riuscito a prenderla. Ho preso una cassa speciale. Vabbè, che servirà per prendere il... Una nuova skin, solo che bisogna andare in tutte le mappe e provare a prenderla. Ecco, quella l'ho mancata. Adesso dobbiamo prendere quella cassa lì e dobbiamo fermarsi. Ok, vai. Guarda che ho mancato le casse. Vai, salta. Perfetto. Questa l'ho mancata. Eh, la vedo difficile riuscire a fare questo qua, eh. Eh, ho mancato pure quella. Questa è più difficile. Di essere esperti a guidare io non lo sono. Oh, che schivata. Eh, tanto ho già perso la dorata. Eh, ho già perso la dorata. Allora... Bisogna essere perfetti senza sbagliare. E... Pensate le platino. Le platino sono una roba incredibile, cioè... Non hanno... Non hanno... Non hanno quasi senso il platino. Ok. Ok. Prendiamo questa. Prendiamo il 3 che sta qua dietro. Ma... Ok. No, ho mancato l'1. Ma... Fa niente. Prendiamo il 2 Prendiamo il 3 12 secondi a famigliare 12 secondi Ok ho preso questa con l'altro Va bene ora devo prendere quella lì Muoviamoci No sono caduto Muoviti muoviti Ha mancato quello Ha mancato quella lì Ho preso però Ho preso tutti quei 3 Adesso vedo quanto mi aiuterà No ho mancato il 2 Non lo so se ce la farò Però sarà tutto nel provare a superare questo qua Oh ce l'ho fatta Provare presto però Ho preso troppo tempo Dove riprovare Era già 1.11 Non ho fatto il tempo Vedete quanto mi sto impegnando per fare questa app Voi dovete lasciare like E guardare i video Perché non ha senso non guardare i video Mi sto impegnando per voi E voi non li guardate E non ha senso Quanti sforzi devo fare per Per fare di questi video Eh questa l'ho mancata Che salto ha fatto No che salto ha fatto Se mi è saltato da casa Ha fatto un salto ampio Vabbè A vedere Ok Non lo so eh Quanti ci mettiamo a fare questo Può darsi che Vi registri solo Questa qua O un'altra forse E poi Farò Le successive In un altro video Che poi vabbè Naturalmente vi spezzerò Quindi Sarà Ho visto in momenti diversi Eh qua cado Perché è inevitabile Eh mi ha mangiato Mi ha mangiato Niente Mi ha preso E Non possiamo farci niente Ve l'ho detto Che le dorate Sono complicate Probabilmente Si sarà visto Negli scorsi episodi Perché per prenderne una Ci ho messo Una roba Come 40 50 minuti E A fare Una prova Ci ne metti uno Quindi Ce l'ho provato 40 volte Ave l'ho provato E quindi Tanto È tanto Eh ho manca Tutte le mancate Però ho preso Tutte quelle dopo Qua ce n'è un'altra In mezzo A prendere 16 secondi Ok Vabbè Adesso Dobbiamo prendere Quella là Abbiamo mancato La prenderò Al prossimo giro Che son caduto Anche Perfetto Dai E devo ricominciare Ah Dai Che ce la possiamo fare Dai È una dorata Su Per la dorata Pensate poi La platina La platina È infattibile Sono più fattibili Secondo me Saranno più fattibili Fare quelle Quelle da Gli altri di crash Quelli saranno più fattibili No Perché mi si è fermato così Quelli saranno più fattibili Poi ve la porterò Sul canale La serie Quindi Mi raccomando Supporrate la serie Quando arriverà Intanto Guardatevi Questa Cercherò Di Portare La Temina Meno Le platine E Riaffrontare Il boss Finale È un caduto Dai Dai Però È scivola Con la parte Lì Mi scivola E io Dovei rallentare Solo che Se rallento Per da troppo tempo Ed è un casino Assolutamente Non Non Mi prenderete Più Non Mi prenderete Più Non Mi prenderete Più Ma questa volta Rallentato Per evitare Di mancarla Vai Ok Ora Trattiamo Di prendere Quella Lì Ok Dentro Oh No Quella L'ho mancata Eh Vabbè Prefidenza 30 secondi Vai Vai È meglio di prima Ce l'abbiamo fatta Secondo me Se Se non molliamo Se cerchiamo Di reggere Tutta La pista Ce la facciamo Ce la possiamo fare Adesso io taglierò Di qua Per fare Prima Vai Vai Tagliato Tagliato Vai Sì Sì Uno Sì Abbiamo Faticato Per questa Chiave Ce l'abbiamo Fatta Però Ho preso Dele Spostatoie Allucinanti Ma Vabbè La torata L'abbiamo presa Le platine Vi ho detto Che le farò In modo diverso Se ve le porto Sul canale Se no Partiamo direttamente Con la nuova serie E non c'è problema Naturalmente Questa serie Quando avrò finito Le chiavi dorate Non sarà Completamente finita La serie Perché c'è la Molta difficile Del gioco Dell'avventura Che poi deciderò Se portarvela Sul canale O farla Per conto mio E poi Ci sarà Ci sarà La molta arcade Tutte le piste Tutte le varie sfide Tutte le varie modalità E durerà un po' La serie Però Cerco di portarvi Tutto quanto